Qui, insieme, avremmo dovuto audiovisionare il discorso delle poetitudini di Zanchese il post-fair, l'idiota del villaggio ormai cosmico che, tavolo di desti di navigazione grafisce dalla barba del tellurico gigante, sui frananti alpendini verbali decifrando, per noi le rovine degli zareari estremi, e dai linguaggi stellari e dal prisma delle omissioni, ai poetoclasti, ai nitidiastri, l'enciclopoetia del Cosmestang, affidando, e ai futuraggiosi poetigiani scoprendo i poetoni, le poeticelle, per scrivere, infine, scrittronici, voi, negenti opitechi, un po' il dia del Vingesto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.